ciao bianconeri buon sabato e buona pasqua a tutti non era previsto questo video stasera gioca la juventus quindi sicuramente vi farò l'analisi a caldo e poi domani giorno di pasqua uscirà il mio video delle pagelle ma volevo commentare con voi il rinnovo di guan quadrado ed ecco qua dopo dopo mattia perin che ha rinnovato fino al 2025 c'è la grande notizia di questo rinnovo di guan quadrado che rinnova per un anno quindi tutti contenti è andato tutto benissimo la juventus ha fatto quello che voleva scusate scusate mi suona il telefono dalla regia si pronto come la juventus non ha ottenuto quello che chiedeva come a la juventus voleva spalmare il contratto su due anni in modo tale da dimezzare lo stipendio invece quadrado si è impuntato col suo agente per una clausola del 2019 che quindi è scattato praticamente il rinnovo automatico alla quarantesima presenza quindi quadrado starà un anno con noi allo stesso stipendio dell'anno scorso beh complimentoni questo è un primo mi permetto è il mio commento primo flop di arriva bene perché non è riuscito ad impuntarsi e adesso ma a parte il fatto che io quadrado insomma l'ho visto un po ultimamente in grande calo fisico io sinceramente non l'avrei rinnovato ah si è rinnovato automaticamente perché c'era un contratto un accordo del 2019 beh allora la gente ha fatto bene a impuntarsi eh oh amici amici ma se c'è un contratto se c'è qualcosa di scritto è giusto rispettarlo scusate ah ok quindi in sostanza rimane con noi un'altra stagione prende gli stessi soldi non ha nessuna riduzione che è tutto questa prosopopea di arriva bene riduciamo riduciamo ma con quadrado non ce l'abbiamo fatta ma lo penso anch'io penso che rimarrà un anno ancora con noi e poi nel 2023 la juve troverà un sostituto più giovane penso di sì speriamo speriamo perché ultimamente quadrado è un po spompo è è vero che ogni tanto ci ha salvato ancora però non è più il quadradone di una volta senti ma ascoltami ma com'è finita poi con bappé con la zebra è andato allo zoo ah ok ma c'erano anche le giraffe va bene va bene grazie grazie ciao 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 niente quadrado ha rinnovato siamo tutti contenti e felici e adesso vi dico uno spoilerino de sciglio molto probabilmente rinnoverà anche lui mentre bernardeschi mi sa proprio di no ok ci vediamo stasera dopo la partita analisi a caldo ciao ragazzi buona pasqua ancora a tutti e sempre forza juve grazie a tutti ciao